Le Gallerie Nazionali Barberini-Corsini raccolgono e uniscono Palazzo Barberini e la Galleria Corsini. Il palazzo dove hanno lavorato Maderno, Bernini, Borromini, Pietro da Cortona, il Manifesto del Barocco. La Galleria Corsini si trova in Palazzo Corsini, era anche quello il Palazzo della Famiglia, costruito circa un secolo dopo, quando era Papa Clemente XII Corsini. Noi abbiamo alla Galleria Corsini una cosa unica, una quadreria allestita come era allestita nel Settecento. Però adesso i visitatori possono comprendere meglio grazie a uno sistema di interfaccia digitale, ovvero ogni visitatore può avere un tablet che punta sulla parete e sapere che cosa sta guardando. E poi invece a Palazzo Barberini abbiamo completamente ridisegnato l'allestimento del museo e anche la storia delle nostre collezioni. In alcune sale ogni sei mesi cambiamo l'allestimento delle opere. Un allestimento non affollato ma mobile, in modo tale che il pubblico non abbia lo stesso ritmo di visita, ma che comunque il ritmo di visita sia un ritmo che poi ha degli affondi. Ha portato a una grande risposta da parte del pubblico, un pubblico che si riesce a fidelizzare anche in un progetto un po' più a lungo termine. Io sono Flamini a Gennari Santori e dirigo le Gallerie Nazionali Barberini Corsini. Veniteci a trovare per scoprire una meraviglia barocca in un museo del XXI secolo.